Che non c'è un cantiere nero, anzi qua c'è un'onda blu. Nostro obiettivo, i dati dicono che oggi siamo la quarta forza politica del Parlamento europeo. Attacco all'Europa e forse alla stessa Presidente del Consiglio? Da Firenze, Salvini spara a bordate contro Bruxelles, insieme agli alleati sovranisti, parla di un'Europa occupata dagli abusivi. Parole che giungono mentre Miloni da Belgrado, con tanto di bandiera europea alle spalle, accoglie le richieste del Presidente Serbo Vucic di entrare in Europa. Io penso che l'Europa non sia un club, penso che non sia un club nel quale qualcuno decide chi sia europeo e chi non sia europea. È stata la storia e la geografia a decidere chi è europeo. Altro tema, fonte di polemiche riguarda la nomina della generale Vannaccia, capo di Stato Maggiore delle Forze Operative di Terra. Per il Ministro della Difesa, Crosetto, non si tratta di una promozione, ma arrivano critiche dalle opposizioni. Intanto a Montecitori, aperta la Camera Ardente di Marisa, Rodano, partigiana cattolica eletta nel liste del PC. L'ultima deputata della prima legislatura fu lei a scegliere la mimosa per l'8 marzo.